Oggi vorrei osare a fare una cosa un po' diversa e quindi presentarvi un video di matematica, non di elettronica o di Arduino perché alcuni dei concetti elettronici che dovremmo affrontare richiedono alcune competenze quindi non sapendo quanti di voi sanno magari calcolare una derivata o un'integrale vorrei provare a portarvi anche a comprendere questi concetti senza arrivare a un livello pari a quello di un corso scolastico ma giusto per avere un'idea come vedete sono tutti concetti molto semplici oggi inizierei parlando di funzioni, iniziamo subito che cos'è una funzione? in elettronica se ne fa grandissimo uso la parola non deve intimorirci perché dobbiamo pensare a una funzione come a una specie di scatoletta nera una black box, metto la F iniziale di funzioni questa black box prende in ingresso un numero e dà come risultato un altro numero quindi metto in ingresso un numero a scelta, per esempio metto 1 questa si fa i suoi calcoli e mi dà in uscita un secondo numero che chiamo Y che per esempio vale 10 quello che accade qui dentro potrei anche non saperlo oppure si può descrivere tramite una serie di espressioni matematiche si chiama una funzione semplice Y uguale a X questa qui è l'uscita mentre questa è l'ingresso i matematici chiamano questa la X cioè l'ingresso la variabile indipendente indipendente perché la potete scegliere come volete a vostro piacere mentre la Y è di solito la variabile dipendente cioè dipende da come avete scelto la X per vedere come si comporta la cosa più facile da fare è fare una tabellina con X e Y e provate a mettere dei valori per la X e vedere cosa succede alla Y quindi se metto 0 qui visto che la Y è esattamente uguale alla X avrò 0 quando metto 1 ho 1 2 2 meno 1 1 la cosa bella di questo approccio è che posso disegnarlo quindi se prendo un pezzo di carta quadrettata faccio due assi uno sarà la X e l'altro la Y vado a prendere ogni riga della mia tabellina quando X vale 0 Y vale 0 quindi sono qui quando X vale 1 la Y vale 1 e quindi trovo questo punto per 2 sono qui e se faccio meno 1 sono circa qua quindi questo corrisponde a una retta potete provare a scrivere delle funzioni anche più complicate di questa qua per esempio se fate Y uguale X2 X2 vuol dire che qua faremo X per X ok? faccio lo stesso sistema quindi traccio la mia tabellina con la X e la Y provo a metterci dei valori 0, 1, 2 e facciamo anche meno 1 e facciamo i calcoli quindi se metto 0 0 per 0 fa 0 se metto 1 1 per 1 fa 1 se la X vale 2 2 per 2 fa 4 0 se la X vale meno 1 meno 1 per meno 1 fa 1 proviamo adesso a disegnarla quindi facciamo il solito grafico quindi questa è la X questa è la Y per disegnarla avrò il primo punto che è 0, 0 quindi sono qui secondo punto che è 1, 1 quindi sono qui il terzo punto è 2 e di altezza fa 4 1, 2 sarà circa qui se faccio meno 1 ho di altezza 1 vado a unire i punti mi viene una curva di questo tipo possiamo provare a farla ancora più complicata Y uguale X2 più 2X più 1 qua il metodo è sempre il solito XY metto dei valori faccio 0, 1, 2 proviamo anche a mettere meno 1 meno 2 e facciamo i calcoli quando ho 0 mi resta semplicemente 1 0 per 0 fa 0 più 2 per 0 0 resta 1 quindi 1 se metto 1 qui ho 1 per 1 1 al quadrato più 2 per 1 più 1 quindi fa 1 più 2 più 1 che fa 4 con il 2 avrei 2 al quadrato più 2 per 2 più 1 quindi 4 più 4 che fa 8 più 1 è 9 se metto meno 1 ho meno 1 per meno 1 quindi meno 1 al quadrato più 2 per meno 1 più 1 quindi ho 1 questo fa meno 2 questo fa 1 che mi dà 0 con il meno 2 avrò 1 provate voi a fare i calcoli anche qui posso andare a provare a disegnarla quindi faccio la X la Y vado a cercare i punti quindi per X uguale 0 la Y vale 1 quindi sono qui quando X vale 1 l'altezza è 4 quindi 1, 2 sarò circa qui quando X vale 2 arriverò a 9 quindi sarò circa qua quando X vale meno 1 sono a 0 per X uguale a meno 2 sono a 1 vado a unire i punti mi esce una curva di questo tipo simile a quella che abbiamo visto prima che è una parabola in elettronica spesso non si usa la X e la Y ma trovate delle espressioni camuffate da funzioni ma che poi sono effettivamente funzioni quindi non troverete Y uguale a X ma troverete delle cose tipo ID uguale una certa funzione della VGS per esempio in questo caso questa è la nostra Y e questa è la X quindi senza spaventarci troppo andiamo a fare i calcoli come abbiamo visto prima possiamo quindi anche tracciarle quindi sul grafico avremo la VGS qui e qui la ID e qui un'espressione che ho sintetizzato con F che mi dà il tracciato di questa cosa spero che il video sulla matematica non vi abbia stravolto qua non ci sono interrogazioni compite in classe spero solo che vi arrivi il concetto quindi in modo da capire meglio quello che poi accadrà quando lo applicheremo all'elettronica il concetto di funzione è qualcosa che già dovreste avere era giusto per introdurre il discorso se fossero dubbi o domande lasciatemi un commento cercherò di rispondere appena possibile vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao